L'opera si relaziona al luogo come se fosse una rievocazione del passato. Raffigura dei tronchi d'alberi che sono stati troncati e poi da sopra c'è stata creata una pavimentazione, sono state costruite delle cose, perciò ricordo quello che c'era in passato. Ho realizzato dei dischi di carta che raffigurano la base del tronco dell'albero. Sono stati realizzati estraendo il colore dalle galle di quercia. E poi invece c'è un altro che è un po' più rosato, quello proviene dalla corteccia della palma. In alcuni punti non sono rappresentate le venature perché è come se gli mancassi un pezzo dell'albero che c'è nelle vicinanze. È come se fosse un micro bosco dove una piccola foresta, dove sono nate queste piante e hanno una piccola memoria una dell'altra.